Ciao, sono Jessica Valls, nuotatrice del Club di Nuoto Sant'Andreo e della Nazionale Spagnola di Nuoto. E questo sarà il mio sesto anno di nuoto professionale, a livello professionale nel nuoto, ma pratico questo sport da quando avevo sei anni. Sono stata atleta olimpica a Rio e ora sarò di nuovo atleta olimpica a Tokyo. E la mia vita quotidiana è complicata, è difficile combinare tutto. Ma di solito mi alzo alle 5 del mattino, faccio colazione, alle 6 siamo in acqua, qui al Club di Nuoto Sant'Andreo. Mi alleno dalle 6 alle 8 del mattino, più o meno 8 e 30. Poi di solito facciamo un po' di lavoro cardio, andiamo a correre fino alle 9, 9 e 30. Faccio colazione. Prima lavoravo, ma ora mi dedico ad altri aspetti come tutto l'allenamento invisibile, recupero, fisioterapia, nutrizione, psicologo. Poi alla 1, 1 e mezza mangio e alle 2.45 sono di nuovo in acqua, più o meno. E da quel momento non c'è fine. L'allenatore ci dice che non c'è orario di fine dell'allenamento, ma di solito finisco intorno alle 5 o 5 e mezza e poi faccio allenamento fisico dalle 5 e 30 alle 6 e 30 7, in cui mi alleno in palestra, lavoro di forza resistenza e anche alcuni giorni lavoro di contrasto, stretching. Quindi è una pianificazione lunga che dura tutto il giorno e anche a livello settimanale facciamo come due microcicli. Ci alleniamo dal lunedì al mercoledì, che è quasi un periodo di adattamento, e poi dal giovedì al sabato e di solito la domenica ci riposiamo, anche se quando andiamo in fase di concentrazione ci si allena anche di domenica. Di solito mi alleno circa 8 ore al giorno, divise tra mattina e pomeriggio. La mattina mi alleno dalle 6 alle 8 in acqua, poi faccio un lavoro cardiovascolare fuori dall'acqua e nel pomeriggio ci alleniamo dalle 14 e 30 alle 17 e 30, di nuovo in acqua, e poi una parte fisica in palestra che può essere pesi o forza resistenza. Mi sto preparando per i giochi olimpici, che è la gara. È come una pianificazione che deve essere per 4 anni, è come un obiettivo che si vede a lungo termine, ma alla fine in un lampo sei giallino. Mentalmente è come se tu avessi un focus, un focus su un giorno e un'ora X, ma devi darti anche degli obiettivi intermedi per continuare a motivarti e continuare ad andare avanti, no? In modo che non sembri così lontano. E a livello di preparazione fisica è vero che si fa un lavoro più aerobico, più di base nel primo anno e con il passare degli anni si fa più un lavoro di competizione o a ritmo della prova, ma è vero che con la pandemia i piani sono un po' cambiati. In quest'ultimo anno con la pandemia sono cambiate molte cose, a parte nella vita quotidiana, andare con la mascherina fino all'ultimo momento prima dell'allenamento, le sessioni di allenamento devono, sono molto più strette, nel senso che i gruppi sono più piccoli. Abbiamo dovuto dividere il gruppo in diverse occasioni a causa di casi di positività, di contatto diretto. Quindi il fatto che la preparazione sia compromessa, i confinamenti per aver avuto il Covid, tutto questo lo abbiamo dovuto subire e a livello agonistico le competizioni sono molto più rare. È difficile uscire a gareggiare perché molti paesi decidono che devi fare la quarantena all'arrivo, quindi spesso non conviene uscire a gareggiare a livello internazionale se poi la tua preparazione ne risente. Quindi stiamo gareggiando a livello nazionale e abbiamo voglia davvero di uscire a livello internazionale, ma ci costa. Quando ci hanno dato la notizia che i giochi erano stati cancellati è stato come uno shock emotivo, con diverse emozioni che stavo provando. In quel momento ero prequalificata per andare ai giochi. Mi mancava solo l'ultimo passo che era diventare campionessa spagnola ed ero in Sierra Nevada ad allenarmi. Ma ci hanno fatto scendere e sono passata dall'allenarmi in Sierra Nevada per una gara che mi avrebbe portato ai giochi all'essere chiusa in casa al giorno dopo. E lo shock di vedere che tutto veniva cancellato, il campionato spagnolo era cancellato, le gare europee erano cancellate, ma i giochi olimpici continuavano. Il COI continuava a non dire nulla. Era come una sensazione per cui mi hanno tolto la piscina, mi hanno tolto le gare, devo continuare ad allenarmi, ho un senso di responsabilità perché mi sto allenando per questo e vedo che non hanno intenzione di cancellarli e io sono qui senza piscina, quindi è stata una sensazione opprimente. Ma sì, quando poi hanno detto che erano stati cancellati, anche al di là delle Olimpiadi ci sono piani, volevo davvero diventare mamma e naturalmente tutto questo ha significato che devo rimandarlo di un altro anno. Ho pensato a questo momento per quattro anni e devo posticiparlo di un altro anno. Quindi è stato un sollievo, ma allo stesso tempo sapere che dovevi adattarti a qualcosa di diverso e la verità è che l'ho presa meglio di quanto mi aspettassi grazie al lavoro con lo psicologo e l'allenatore che hanno davvero capito la mia situazione e che mi hanno fatto vedere che davvero tutti ci stavano passando e che bisognava adattarsi a decidere. Penso che questi giochi saranno speciali perché ognuno avrà la sua storia. Non c'è, non ci sarà una persona o un atleta con una storia simile. Ciascuno sarà stato influenzato in un certo modo. Quindi penso che saranno speciali per questo motivo perché tutti l'avranno vissuto in un certo modo e tutti avranno una storia da raccontare una volta finita. Il momento peggiore della mia carriera sportiva è stato nel 2019 perché stavo attraversando un crollo emotivo a livello personale che ha finito per incidere a livello di lavoro, a livello di prestazioni. Mi ricordo che era come se avessi la sensazione di lottare tutto il giorno e quando arrivava la competizione che era quando dovevo lottare era come ho già lottato troppo e volevo divertirmi e non spingere al massimo. Quando mi è successo era come se mi sentissi frustrata ogni volta che mi incitavano a dare il massimo perché non ero in grado di dare il mio 100%. È stato qualcosa su cui davvero ho lavorato molto durante il 2019, alla fine del 2019 e posso dirti con certezza che è come se ci fosse un momento in cui la tua testa scatta. Certo lo vai elaborando ma c'è un giorno in cui ti svegli e dici basta ho finito, ho smesso di combattere e quando mi tocca combattere è nel mio giorno per giorno a livello di allenamento ma anche nel vendere cara la pelle al momento di gareggiare. Penso che questo mi faccia apprezzare ora quando ottengo le cose perché so da dove vengo e a volte si perde un po' di prospettiva quando si entra nella ruota di, beh, dell'autoesigenza, di volere di più, di esigere di più. A volte bisogna uscire un po' e vedere da dove si viene e valorizzarlo. Penso che il ruolo delle donne è cambiato a livello sociale e noi donne abbiamo la nostra carriera professionale ma vogliamo anche essere madri proprio come i padri ma è vero che ci vogliono nove mesi e che per questo andiamo incontro a un cambiamento fisico quindi dobbiamo pianificare già da ora quando possiamo essere madri sapendo che è qualcosa di difficile da realizzare senza sapere con precisione quando ci si riuscirà ma penso che ci sia bisogno di più aiuto a livello anche a livello di lavoro ma a livello di sport penso che ci siano poche atlete che dopo essere state madri possono raggiungere alte prestazioni. Credo che ci siano anche pochi modelli e il fatto che ci siano pochi riferimenti fa sì che non ci si pensi nemmeno che si dica o sono una madre o sono un atleta. Mi piacerebbe essere madre e tornare a notare ma non so se sarò in grado di farlo perché è necessario stare molte settimane lontano da casa non so se avrò un aiuto per poter portare il mio bambino se posso portare qualcuno che si prenda cura del mio bambino mentre mi alleno. Penso che questi siano nuovi problemi che noi donne stiamo affrontando ora e sì c'è la volontà o la predisposizione di poterli risolvere ma penso che dobbiamo alzare la voce e dire almeno quali problemi stiamo affrontando. Io per esempio devo pianificare ora quando diventare mamma ma un atleta uomo no alcuni di loro sono diventati padri in questo anno olimpico e non è successo nulla giusto ma io subisco un cambiamento fisico quindi devo devo pianificarlo ma è vero che riguardo a questo c'è un atleta una carbonelle che ci sta provando in questo momento e per me è un grande riferimento se lei è in grado di farlo ci proverò anch'io. Non ho grandi modelli ma potrei dire un nome che è Rafa Nadal per tutto il tempo che è stato in cima penso che sia difficile arrivare in cima ma più difficile è rimanerci. In questo senso penso che sia un grande riferimento per lo sport spagnolo e per lo sport mondiale e nel caso del nuoto c'è una nuotatrice Katinka Occiu che ha cambiato un po' la visione del nuoto sta cercando di professionalizzarlo il che è difficile per i nuotatori e noi al momento non ce l'abbiamo e in questo senso credo che abbia aperto molte strade e per questo è un grande riferimento. Se penso a tutte le stagioni che sono passate forse il più grande successo che ho ottenuto è stato nel 2015 la medaglia di bronzo a Kazan ma penso che alla fine tutte in tutte le stagioni ho raggiunto qualcosa o qualche obiettivo che mi ero prefissata. Nel caso di Kazan ottenere la medaglia è stato nel 2015 nel 2016 beh arrivare a notare i miei primi giochi olimpici nel 2017 ho potuto fare due finali in un campionato del mondo sia nei 100 che nei 200 rana che non avevo mai raggiunto e nel 2017 sono stata campionessa europea quindi penso che non ho avuto una sola grande stagione ma penso che qualcosa che mi definisce l'essere costante e avere cioè non grandi successi ma pochi e continui. Mi piacciono molto i trattamenti in Diba perché combinano la terapia cioè il massaggio che il mio fisioterapista può farmi la mattina con soprattutto quello che noto è quando c'è il calore no e quella sensazione di rilassamento di benessere e davvero esco da qui come rinnovata. Beh in termini di sport il nuoto è una disciplina in cui l'impatto è minimo se non nullo. Quello che abbiamo sono lesioni ripetitive in questo caso alla spalla. Stiamo parlando di atleti che di solito fanno circa 8.000 bracciate al giorno quindi per forza ci sono processi patologici laddove c'è ripetizione, attrito, liquidi e nel caso più personale di Jesse l'ultimo infortunio che abbiamo avuto era un problema al ginocchio. Un mix tra lo sport a secco che fa per prepararsi come la corsa e così via e la sua disciplina che è la rana. Significa anche che ci sono momenti in cui il ginocchio è più coinvolto. Beh personalmente penso che la fisioterapia aumenti davvero la performance di un atleta semplicemente perché è come un modo come diciamo con rosca di passare per i box ed è come se mi preparasse a continuare l'allenamento durante la settimana per essere al meglio il giorno dopo. Alla fine non è che mi renda più veloce ma mi permette di allenarmi meglio il giorno dopo e mi permette di prevenire gli infortuni e anche di lavorare meglio di forza ma davvero è davvero è qualcosa che ho capito nel tempo con l'età no? All'inizio non gli davo tanta importanza e ora sempre di più. Sì alla fine penso che è importante tanto il lavoro di prevenzione che il trattamento perché non siete pazienti a cui possiamo dire bene ora riposare per 24 48 ore ma il trattamento è tale che lo stesso pomeriggio o il giorno successivo puoi tornare di nuovo al massimo della resa allenandoti e così alla fine è quasi obbligatorio passare attraverso i box come dicevi tu no? Il ruolo che ho per i giochi olimpici inizia nel 2016 quando Jesse finisce i giochi. Da allora abbiamo iniziato a preparare i suoi giochi olimpici di Tokyo quindi li abbiamo preparati per cinque anni con un ruolo che abbiamo lavorato ogni settimana in ogni competizione. Questo è stato il mio ruolo per il momento e di qualsiasi cosa i nuotatori abbiano bisogno prima dei giochi sarò più che disposto ad aiutarli e se la federazione con cui ho già collaborato vuole contare su di me per me sarà un piacere anche accompagnarli. Penso che sia importante molte volte rimane un po non viene alla luce molte volte quando si vince un premio quando si ottiene un buon record l'atleta è il volto visibile ma dietro di lui ci sono molte persone che aiutano che remano in quella direzione l'allenatore è chi coordina o il cervello di tutti questi professionisti ma alla fine tutte queste persone come se fossero come se fossero dietro come se stessero gareggiando proprio come te quindi mi piacerebbe che fossero lì e potessero goderselo almeno.